Una tre giorni di festa all'insegna dello sport all'Istituto Falcone Scauda di Torre del Greco, nell'ambito del progetto due campetti a regola d'arte, finanziato dal Comune. Inaugurate anche le aree ludico-motori attrezzate dei plessi Conte Scaramella, il laboratorio di psicomotricità al plesso Scauda, tra i momenti di allegria e condivisione per gli studenti, in chiusura dell'anno scolastico. Soddisfatta la dirigente della scuola, Maria Iosè, abilitato. Triplice festa, perché abbiamo svolto tre join di feste, il primo join nel presso Conte, dove abbiamo attivato un'area esterna, l'abbiamo attrezzata. Ieri abbiamo svolto la festa per l'inaugurazione di un laboratorio di psicomotricità, che abbiamo attrezzato davvero in maniera completa e oggi siamo qui a Scaramella per inaugurare uno spazio esterno che abbiamo riattivato con un'area giochi e un'area per giochi sportivi per i ragazzi della scuola primaria e della scuola dell'infanzia di questo plesso. È intervenuto anche il sindaco in rappresentanza dell'amministrazione comunale, perché queste aree esterne ripristinate sono il frutto di fondi economici riconosciuti dall'ente comunale. Il sindaco ci ha comunicato anche in riferimento al plesso Ossi, dove i lavori stanno procedendo e se davvero questa volta ci riusciamo, per fine anno riusciremo ad avere anche il nostro edificio in via Lavatroia. Siamo alla fine dell'anno scolastico, Preside, facciamo un bilancio. I bilanci sono sempre abbastanza complicati. Ci sono dei punti di foizza, ci sono dei punti di debolezza. Io credo che il punto di foizza rimane quello che io ritengo davvero prioritario. Essere una comunità, essere una squadra. Stamattina dicevo una noce nel sacco non fa rumore. Io credo che questo istituto comprensivo abbia tante noci nel sacco e ne gioisco. Sono felicissima perché in una settimana molto virtuosa in cui stiamo inaugurando campetti, teatri, chiudiamo progetti, insomma diamo un volto ai finanziamenti che abbiamo stanziato l'anno scorso come settore pubblica istruzione e che quest'anno abbiamo già deciso di rifinanziare perché riteniamo che siano dei finanziamenti, per quanto mi riguarda, sono i soldi meglio spesi, perché sono veramente finanziamenti che poi i nostri dirigenti scolastici, che brillano veramente in competenza, hanno una capacità di spenderli in maniera virtuosa. Questo istituto scolastico viene da una tre giorni praticamente di inaugurazioni e di festeggiamenti perché abbiamo inaugurato il campetto qui al plesso Scaramella, un altro campetto al plesso Conte, il laboratorio di psicomotricità al plesso Scout, con i finanziamenti della pubblica istruzione e io sono contenta perché penso che quando diamo uno spazio ai bambini li aiutiamo nella crescita e siccome i bambini e i ragazzi sono il motore di tutto il nostro lavoro, tutto quello che facciamo è assolutamente nel loro interesse.